La Toscana di Ruffino Si sforzano a leggere, è scritto piccolo Ascolta, è scritto grandissimo Per favore, casa dolce, casa Ma guarda che cucina Ma ci sono dei posti stupendi Ma chi avrà scritto sta roba Per favore, cioè La frittata con gli avanzi E mi corregge E mi corregge se ha scritto Il povero ragazzo Oddio, primo libro No, oddio Francesco Sorelli è lui Ruffino si parla di questo No, Francesco raccontaci Perché io non voglio ovviamente offendere Tutto il resto Ma però è un libro bellissimo E i testi sono di Francesco Racconta Racconta È una recensione al volo Guarda, guarda Il libro non è di Francesco Sorelli Ma è il libro di Ruffino Che racconta la Toscana di Ruffino Cerchiamo di radicare Di portare alla luce Tutta quella che è la nostra storia La tradizione Queste parole Gorgoglianti, i sapori La tradizione No, aspetta Parole gorgoglianti Secondo me Secondo me lui ha trovato Dopo il Petaloso Non lo sappiamo Siamo alla ricerca di noi Che è il nome Perfetto Perfetto Allora, cosa hai fatto? Racconta il libro Allora, volevo portare alla luce Tutta quella che è la storia La tradizione Le persone che sono dietro Ruffino La nostra Toscana Quindi ho identificato Quattro macro aree Che ci distinguono La casa Quindi la casa dolce casa Dominata dalla mamma Dalla nonna Dal desinare Dal pranzo del domenico Gli amici Al fresco Le merende La scampagnata Casa Amici Il fresco Poi La città L'han predotto contro La tenina dei medici Città Quindi La campagna I nonni Il contadino L'arguzio Il motteggio Il riuso Il piatto povero È stupendo Ma quante cose ha fatto? Cioè Ho proprio venito a te a mangiare Cioè Voglio dire È pazzesco Io rientro alla nonna Il premento è che non ho fatto Neanche un piatto Però le abbiamo mangiate tutte Perché non sono piatti di fin Sono storie Non è un libro di cuscine Ovvero Si può anche fruire A questo tipo di livello Però non è un libro di cuscina Allora Raccontiamo benissimo La Toscana di Ruffino È un bellissimo libro Nel quale Francesco Ha scritto un sacco di cose Ricordanti Che cosa? La vita della Toscana Quindi come noi ci troviamo A una tavola Conversiamo Chiacchieriamo Rigoverniamo Dove è fatto il desinare Asciugiamo con l'asciughino Perfetto Chi lo compra Il cencio Si dà il cencio Chi lo compra Cosa lo trova? Lo trova nelle librerie Dal 16 maggio Edito dai tipi Del cucchiaio d'argento Cosa trova? Ricette? Trova ricette Trova storie Trova un io personale Che si fa universale È stupendo Allora noi abbiamo La possibilità di imparare Ricette tradizionali Secondo uno schema Legato a quella Che è la tradizione Della Val di Sieve Mi raccomando E soprattutto Un sacco di abbinamenti Cibo e vino C'è anche il bardiccio Ci farebbe Oddio Mi raccomando Quindi Ma ha comprato Non c'è bisogno Ma ha comprato E c'è